C'è un futuro in cui le AR non avrà più visori ingombranti, ma leggeri e discreti, proprio come un normale paio di occhiali. Alla Stanford University ci stanno lavorando. Hanno creato un prototipo di smart glass che proietta immagini 3D generate dall'AI direttamente sulle lenti, con una tecnologia chiamata Nano Photonic Meta Surface Waveguide. Le applicazioni, tantissime, una intera realtà che si sovrappone a quella che viviamo ogni giorno. Ma sapremmo reggere a tutti questi stimoli?